Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Concludiamo questa puntata interamente dedicata alla salute parlando di problematiche di deambulazione. Questa sera non ci concentreremo su problematiche specifiche, ma cercheremo in effetti di capire se la qualità di vita che nella quotidianità cambia veramente quando ci sono dei problemi motori può essere recuperata, può tornare a migliorare con l'ausilio di strumentazioni che troviamo in commercio e che sono veramente ad uso quotidiano. Stasera cercheremo di capire se sono efficaci, se vale la pena investire i nostri soldi nella salute in questo caso. Allora ne parliamo insieme a due esperti, Franca del Giudice Marketing Manager di Stanna Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E buonasera e benvenuto anche a Federico Cerrato, Consulente di Stanna Italia. Buonasera. Eccoci qua. Allora parliamo di problematiche motorie di deambulazione, però parliamo di problematiche molto ampie perché io vorrei citare un dato Istat. Allora ogni anno in Italia si verificano 4 milioni e mezzo di incidenti in ambito domestico. Maggiormente esposti ovviamente sono anziani e donne. Questo vuol dire che sia persone che avevano problemi prima possono andare incontro a peggiorare la loro qualità di vita sia persone che magari semplicemente sono anziane o magari si danno un grande affare in casa e un attimo di non curanza, ci si può fare male e la qualità di vita può cambiare. Allora a questo punto che cosa si può fare? Tante volte vediamo pubblicità di strumentazioni che possono aiutarci, darci una mano quando si tratta di far fatica, magari di salire le scale. Ecco, cerchiamo di capire intanto che cosa sono, di cosa stiamo parlando e se effettivamente possono essere utili anche non tanto a curare, aiutarci quando già ci siamo fatti male, ma a prevenire. Siamo donne che abbiamo un sacco di cose da fare, siamo anziani, quindi problemi di deambulazione piano piano arrivano. Possiamo pensare a strumentazioni che possano aiutarci in casa, se sì quali? Bene, in effetti il montascale è proprio la soluzione non solo per prevenire rispetto alle cadute dalle scale, ma anche proprio per migliorare la qualità della vita, in particolare in effetti per le persone anziane, perché spesso, a prescindere dal fatto che si possa non avere una patologia per cui non per forza un problema di mobilità, magari si fanno tante cose, si ha un giardino, ci si muove liberamente per la casa sul piano, ma in realtà quando si è in presenza di scale, soprattutto se sono due, tre o magari anche quattro rampe, o di più, questo può rappresentare un problema, comunque una fatica. Quindi il montascale è proprio quell'ausilio che consente di vivere liberamente nella propria casa e di recuperare la totale autonomia muovendosi all'interno dello spazio domestico. Tra l'altro senza deturpare l'estetica della casa, proprio perché è anche da un punto di vista estetico ben curato. Bene, insomma, queste caratteristiche le vedremo dopo, vorrei ancora dedicare qualche istante alla prevenzione tramite queste strumentazioni, per capire se è veramente vero, perché io ho parlato di incidenti domestici, di infortuni che avvengono in casa. E allora, le cadute, torniamo a citare dei dati, cambiano veramente la vita dei quanti italiani, per esempio, ogni anno? Sì, citiamo dei dati del Ministero della Salute che con una ricerca ha raccolto dei dati che portano a un numero impressionante, il 78% degli incidenti all'interno delle mura domestiche riguarda le cadute, le cadute che avvengono in casa. Il 14% di questo numero, quindi questo 78%, addirittura ha cadute sulle scale, quindi le scale sono una buona fetta dei problemi e degli incidenti che avvengono in casa. Da qui la necessità, l'esigenza di considerare un prodotto come il Montascale, non solo come un ausilio exposto, ma come un ausilio ex ante, cioè un qualcosa che mi aiuti a prevenire problematiche di questo tipo. Ecco, allora quello che facciamo insieme stasera è un po' scardinare una filosofia un po' italiana del mettere una toppa quando serve. Allora no, invece quando si parla di salute, di proteggere la nostra salute, si può prevenire. Quindi veramente quando si parla anche di oggetti di questo tipo, di Montascale, di strumentazione così, si può non più legarli alla patologia, al problema che già è effettivo. Si può pensare a scardinare, insomma, questa filosofia. Voi che avete un rapporto diretto con i clienti, vedete che sta iniziando anche a entrare in testa degli italiani questo? Sì, effettivamente sì, perché nell'arco di questi ultimi 15 anni c'è una sempre maggiore sicuramente attenzione da parte della terza età appunto a migliorare la propria qualità della vita e questo tipo di ausilio viene sempre più percepito come un qualcosa che davvero può ridare la totale autonomia. E quindi direi che sotto questo aspetto se ne è fatta parecchia di strada. Bene, bene, per fortuna. Ecco, quello che invece fa tanta paura e forse blocca ancora un po' molte persone è l'aspetto economico. Lo c'è da dire che in un momento di crisi poi come questo si fa fatica a mettere mano al portafoglio anche quando si parla della propria salute. Tante volte si pensa, beh, posso resistere ancora un pochino, ce l'ho fatta fino ad ora, resisto ancora un annetto, magari l'economia riparte, magari prendo un po' di più con la mia pensione e ce la posso fare. Cosa avete registrato voi per esempio per quanto riguarda appunto le spese per tutelare semplicemente il proprio benessere? Da una ricerca a Eurisco le spese per tutelare il benessere, quindi le spese dedicate alla salute, sono le uniche che in questa fase di crisi di recessione tengono, nel senso che comunque continuano ad aumentare e c'è una continua tendenza verso una ricerca del meglio, quindi di prodotti di qualità, di prodotti che danno maggiore sicurezza. Quindi questo fa pensare come la quota anziana della popolazione, sempre in aumento, stiamo parlando degli over 60, le persone con più di 60 anni, comunque hanno ben chiaro quello che è l'importanza dell'investimento. Quindi andrebbe visto in ottica di investimento più che di spesa. Con l'acquisto di un prodotto di questo tipo. Assolutamente sì, ecco questo è importante da far capire. Allora detto tutto questo cerchiamo di capire come fare al meglio un investimento a questo punto. Allora tante sono le tipologie offerte, tanti sono anche gli strumenti che magari possono piacere ma non offrono garanzie veramente sicure, definitive, riconosciute. Allora quali sono le caratteristiche che ci devono portare a scegliere una tecnologia di questo tipo come il montascale? Che cosa dobbiamo guardare? A cosa dobbiamo stare attenti? Beh innanzitutto alla sicurezza e alla qualità. Sicurezza inteso che ci sono degli elementi, parlando del montascale, che sono davvero fondamentali. Come ad esempio semplicemente i sensori, i sensori che sono sulla poltroncina sulla quale ci si siede per salire le scale, sulla pedanetta dove si appoggiano i piedi. Questi sensori consentono di potersi muovere in totale sicurezza e di non far partire il montascale nel momento in cui non si è comodamente seduti, di evitare partenze accidentali, di far sì che il montascale si fermi nel momento in cui c'è un ostacolo lungo il percorso, quindi lungo le scale. Ecco, la sicurezza è davvero importante e come anche la qualità. La qualità e quindi le certificazioni che danno modo di avere la certezza di dotarsi di un prodotto assolutamente sicuro. Esatto, una spesa che si fa una volta e che poi rimane, che non crederà danni né alla nostra salute né alla nostra casa, perché insomma non sappiamo un punto. No, tanto è vero che nell'installare un montascale presso la propria abitazione non sono previste opere di muratura, perché la rotaia del montascale viene fissata ai gradini o al muro e nell'arco di mezza giornata sostanzialmente viene installato ovviamente su misura, sulla base della specifica conformazione di ciascuna scala, oltre che delle esigenze specifiche dell'utilizzatore. Benissimo, ottimo. Adesso poi fra un pochino cercheremo di vedere qualche immagine insieme e di commentarla giusto per dare dei consigli utili. Una guida pratica, come si fa a usufruire di questo tipo di strumentazioni? Qualcosa che è importante invece fare è anche seguire l'installazione. Allora abbiamo detto certificazioni da guardare, qualità garantita assolutamente, ma c'è qualcosa che possiamo anche chiedere a chi viene a portarci questo strumento a casa nostra? Qualche piccola attenzione che da cliente dobbiamo avere? Qualche cosa che non dobbiamo vedere? Qualche cosa che invece possiamo richiedere? C'è un tempo limite o massimo, per esempio, per l'installazione? Cosa è questo tipo? Questo sicuramente, l'installazione non deve durare, come dicevamo prima, più di una mezza giornata. C'è un altro aspetto però che non è stato sollevato e che secondo me è importante nella scelta di un montascale, soprattutto ai giorni d'oggi, che è quello del design. In montascale si sono evoluti nel tempo e ormai sono dei prodotti che all'interno di una casa devono essere considerati la stegua di qualsiasi altro oggetto di immobilio e da qui scegliere in montascale da aziende che hanno un'ampia gamma potrebbe essere un vantaggio, un'opportunità per poter trovare quello che meglio si sposa con l'arredimento della casa. Non tutti abbiamo le stesse case, abbiamo case diverse, chi più moderne, chi più antiche. E quindi la possibilità di rendere questo prodotto maggiormente integrato all'interno dell'abitazione, questo è un altro aspetto sicuramente importante. Dopodiché altri consigli che si possono dare sicuramente se si può provarlo, se si può vedere se nelle vicinanze della casa qualche altra abitazione ha un montascale per poterlo visionare prima e poi affidarsi ad aziende che offrono garanzie di sicurezza. Offrono garanzie di sicurezza durante la fase di rilevamento delle misure per realizzare il montascale sia nella fase di installazione. Assolutamente sì. Prego. Sotto l'aspetto, come dicevamo prima, dell'installazione diciamo che ci sono casi in cui l'installazione dura anche più di mezza giornata. Ad esempio quando si installa un montascale lungo le scale condominali che possono anche essere di più piani. Di conseguenza un'installazione richiede appunto più tempo però si risolve anche lì definitivamente un problema che è quello di condomini per esempio nei quali non è possibile installare un ascensore. Sì, tante volte purtroppo sentiamo il triste fenomeno di anziani reclusi nelle loro case perché un ascensore non c'è e loro non possono scendere scendere dalla casa loro mai. Addirittura anche invece bimbi con delle patologie che fuori non ci possono andare se diventano troppo pesanti i loro genitori non riescono a portarli. Tante volte, tanti comuni, casi di cronaca ne hanno parlato, non riescono a garantire un servizio che possa aiutarli. In questo caso invece è qualcosa che può aiutare. Allora intanto chiederei di vedere ancora qualche immagine perché abbiamo parlato del design e allora vediamo interni e esterni insomma tante le soluzioni che si possono avere secondo anche il proprio gusto. Concludiamo gli ultimi 10 secondi li utilizziamo per parlare proprio dell'utilizzo del montascale nei condomini. Allora c'è qualcosa da sapere? Nel senso c'è magari una legge che ci tutela o un qualche cosa per cui possiamo essere certi che anche se c'è solo una persona in un condominio che ne ha bisogno ha il diritto di metterlo e nessun altro condomino può ostacolarlo al di là del fatto che magari in un condominio ci sono molte persone che ne hanno bisogno può essere veramente utile ma se ne ha bisogno solo uno si può lo stesso? Sì, tendenzialmente sì e ovviamente in quel caso si accolla totalmente la spesa e ha uso esclusivo del prodotto. Ci sono poi casi nei quali invece ci sono più condomini interessati al superamento di questa barriera a scale e a quel punto viene condivisa la spesa e ogni condomino che partecipa a questa spesa viene dotato delle chiavi di utilizzo e addirittura si possono prevedere tranquillamente delle fermate ai piani. Benissimo, allora io vi ringrazio infinitamente per averci fatto scoprire questa realtà per averci parlato bene del montascale un attrezzo che veramente può cambiare la nostra vita ma soprattutto la nostra qualità di vita e soprattutto ci aiuta anche nella prevenzione. Allora grazie a Franca del Giudice e a Federico Cerrato di Stanna Italia grazie anche a voi per averci seguito l'appuntamento per stasera finisce qua noi ci rivediamo dopo domani perché domani c'è l'appuntamento con il format dedicato alla salute invece il nostro salotto di sette sera torna mercoledì. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.